E Andrea Ricchiuto di Bergamo, bravissimi, eccoli qua Un pezzo di Cristina Anguilera, Just a Four Mora Noga Grazie 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 Francesca e Andrea che per questo parco scenico la Giulia ha votato? Sì, tutto a posto non sono volti nuovi Assolutamente no Anzi, facciamolo dire a loro loro hanno partecipato qui si sono esibiti in qualcosa di più di una canzone ditelo voi al pubblico Sì, abbiamo fatto un musical l'8 di marzo proprio su questo palco Forza Vente Gente musical su San Francesco eravamo San Francesco e Santa Chiara Però, eh Forza Vente Gente Visto? Abbiamo risposto tutti Soprattutto Perfetto Grazie Avete caduto benissimo Bravi, bravi Belle animazioni Grazie